Non ci sono ulteriori ricoveri, i casi in crescita rimangono stabili, ovvero non ci sono picchi di contagio particolarmente rilevanti. Nelle ultime 24 ore un solo ingresso in malattie infettive, ma il virus non si arresta. Sono 350 i nuovi pazienti positivi in tutta la provincia, dei quali 113 a Caltanissetta, per un totale di 46 ricoverati. Il numero totale dei soggetti infetti sono 4.454, sono saliti più di 2.000 i nuovi casi nell'arco di 10 giorni. Intanto si aspetta la risposta da parte della Regione della richiesta dello Stato di particolare interesse e disagio che riguarda la nostra provincia. Infatti l'ASPA ha chiesto per tre paesi della provincia, il capoluogo Caltanissetta, Enna e San Cataldo, un particolare decreto da parte della Regione che non istituisce più le zone di colore che riguarda il fatto che i numeri sono triplicati nell'arco di 10 giorni e ancora nessuna risposta. Per ciò che riguarda Caltanissetta sono 1.134 i positivi in quarantena domiciliare, soltanto 9 i ricoverati in malattie infettive. Non ci sono cittadini della provincia nissena ricoverati in terapia intensiva, c'è soltanto un paziente che viene da fuori provincia. I numeri sono di molto aumentati, salita la curva, però i casi gravi, ovvero quelli da ricovero, sono pochi, infatti soltanto 9. Per quello che riguarda Caltanissetta è il numero maggiore di ricoverati, sono 17 e sono a Gela.